Accelerazione sul fronte delle somministrazioni con il vaccino AstraZeneca. La struttura commissariale nazionale, titolare della distribuzione delle dosi, ha infatti comunicato alla regione siciliana che la previsione per il mese di marzo potrà aumentare di circa 100.000 unità, portando complessivamente la dotazione mensile per l'isola a poco meno di 240.000 possibili inoculazioni. Sono intanto già circa 235.000 i siciliani, delle categorie per cui è attualmente aperto il sistema di prenotazione attraverso le piattaforme gestite da poste italiane, che hanno prenotato l'appuntamento con il vaccino anti-covid. Il target più numeroso è quello degli over 80, 165.444, mentre sono poco meno di 70.000 coloro che prestano servizio nelle scuole dell'isola ad avere avuto accesso ai sistemi di prenotazione. I dati sono stati raccolti dall'assessorato regionale alla salute assieme a quelli delle vaccinazioni già effettuate in tutto il territorio. Ieri sono state poco meno di 15.000 le somministrazioni di vaccino, mentre all'avvio della campagna vaccinale si sono complessivamente superate le 365.000 inoculazioni. Con il Moderna sono state effettuate 12.155 iniezioni, 44.840 con AstraZeneca, 308.102 con Pfizer-BioNTech. Proseguono, infine, anche i lavori del Dipartimento regionale di protezione civile nei cantieri degli hub vaccinali provinciali. L'assessore alla salute, Ruggero Razza, ha visitato il sito che ospiterà il centro di Siracusa. La struttura con 24 box vaccinali, che aprirà a breve, è in allestimento presso l'Urban Center, messo a disposizione dal comune del capoluogo Aretuseo. Lavori in corso anche a Caltanissetta, Trapani, Agrigento e Ragusa. Lavori in corso anche a Caltanissetta.